Salve amici del centro meteo italiano. Perturbazione in approfondimento in Italia porta a maltempo al centro nord. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 8 marzo. Cieli coperti al mattino su Sardegna e regioni del nord Italia, qui con piogge deboli e neve dai 900-1100 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità in Italia con pioviggini sulla Sardegna, deboli precipitazioni ancora su Alpi e Prealpi. In serata e nottata tempo in peggioramento con fenomeni più intensi attesi sul medio-alto versante tirrenico, nevicate sull'arco alpino dai 700-900 metri e in appennino dai 1300-1800 metri. Temperature minime e stabili in aumento, massime in calo al nord e in rialzo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.